A causa dell'emergenza coronavirus la mia attività video è momentaneamente sospesa tuttavia ho molti video registrati nelle settimane precedenti che posso mostrarvi a cominciare da questo con la bellissima marica una pugile di 65 kg che si diverte a prendermi a cazzotti Ciao, benvenuti al mio canale Appsofsteel Challenge a causa dell'emergenza coronavirus non potrei produrre nuovi video ma ho molti video registrati nelle settimane precedenti che posso mostrarvi questa è la prima parte una performance humana con una bellissima a 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